Ben ritrovati amici dallo stadio San Nicola di Bari, oggi 14 aprile 2019 si giocherà la 31esima giornata di Serie D girone I fra Bari e Portici, il Bari può conquistare anche oggi la promozione in Serie C solo se la Turris dovesse pareggiare o perdere, in caso di vittoria della Turris sarà tutto rimandato alla prossima giornata. Andiamo a vedere la formazione dei Biancorossi, tra i pali Marfella in difesa Turi, Di Cesare, Mattera e Quagliata, a centrocampo Amlili, Bolzoni e Piovanello, in attacco ritornano Floriano, Simeri Enneglia, allenatore mister Giovanni Cornacchini. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere il video e se volete di iscrivervi al canale. Grazie a tutti. 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 Meno male. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. e a tutti. a tutti. un fallo. un fallo ha fatto. grazie a tutti. , grazie a tutti. Dai Marfella batti Dieci secondi alla fine Vai 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 Finisce qui Bari Portici 2 a 1 Per il Bari decidono le reti di Valerio Di Cesare e Simone Simeri Festa promozione però da rimandare Perché la Turris ha vinto 5 a 0 Ma manca solamente un punto Possiamo considerarci già in circo senza problemi Per il Bari La Turris ha vinto 5 a 0 Per il Bari La Turris ha vinto 5 a 0 Per il Bari La Turris ha vinto 5 a 0 Ma com'è che fa bianco rosso il colore che portiamo noi e voi? Ma com'è che fa bianco rosso il colore che portiamo noi e voi? Per il Bari La Turris ha vinto 5 a 0 Per il Bari La Turris ha vinto 5 a 0 Per il Bari E il Bari Ma com'è che fa bianco rosso il colore che portiamo noi e voi? Per il Bari In ogni categoria Magico Bari Magico Bari Io non vivo senza te Che importa se È arrivata la retrocessione Che vuoi che sia In ogni categoria Magico Bari Io non vivo senza te Che importa se È arrivata la retrocessione Che vuoi che sia In ogni categoria Magico Bari Ma com'è che fa bianco rosso il colore che portiamo noi e voi? Per il Bari Ma com'è che fa bianco rosso il colore che portiamo noi e voi? E il Bari Ma com'è che fa bianco rosso il colore che tapp garlic Ma com'è Café Grazie a tutti. Il video finisce qui, io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere il video e di iscrivervi al canale. Grazie. Prossimo appuntamento sul canale domenica 28 aprile per Bari Rotonda.